Purtroppo come ho già spiegato in diversi casi, per me non è stato possibile acquisirlo perché è stato venduto a un'altra società come ho già spiegato precedentemente e di conseguenza purtroppo non sarà possibile acquisirlo questa volta. Ma Kou, scusate, una telefonata da Japona. Scusate, mi sta chiedendo se siamo ancora interessati a Pronave. Cosa gli dico? Sì! Sì? Se lo vogliamo comprare, lo compriamo o no? Sì! Ok, va bene, è nostro. Grazie a parte, a parte le cagate, però mi piaceva inventarmi una tretinata del genere perché in effetti questo ha avuto un processo un po' strano ed è vero quello che è successo adesso, cioè prima ci hanno detto questa cosa e poi dopo se ne hanno detto un'altra. Ma tutto è bene, ciò che finisce bene, come si suol dire, quindi Promair, Promair è la pronuncia esatta, è detenita e siamo felici di poterlo portare in Italia continuando quella che è la, diciamo così, la distribuzione dei prodotti di studio Trigger come Guerrilla Gamma e Chila Chila. Bene, io adesso ho davvero finito.